E salve a tutti ragazzi eccoci qui tornati con un nuovo episodio di ma c'è qualcosa di strano no vabbè di life is strange 2 e insomma come al solito vi ringrazio per le iscrizioni like il tempo di visualizzazione e guardate anche i canali che vi metto sotto in descrizione detto questo andiamo avanti Ok no vedevo i colori tipo strani sparaflesciati vabbè sono i miei occhi Ok Hey Ha Well finally someone who dares speaking with me Hope you're vaccinated What? Uh no I mean I'm just messing with you It's nice to chat for a change Me and my friends have been crashing here for the wait Nobody gives a shit about us Yeah I can tell you're not from around here Assolutamente no No way Just Here for the holidays Ah You got family My grandparents Gotta love the grandparents What about you and Your friends Road trip Uh Not really We kinda hop from Place to place Hunting for Little jobs Must be a long ride That's okay We hop on trains Use us time to rest Allora che figata Man That sounds wicked You have no idea It's free And it's so fucking fun Well unless you get caught or fall but We've been lucky so far That's the best Nobody tells us what to do No corporation owns us And you get to see so many cool places Exactly Next stop is Humboldt County, California Stoner break Not even close We actually got work over there Sean What are you doing? We've hit the tree with Chris It's all crooked like an old witch Oh Hi Who are you? Oh Your hair looks so cool Is it a wig? Uh Well What do you think? Hmm I don't know But it's really cool I'm Daniel What's your name? Hi Daniel I'm Cassidy I dig your superhero outfit I'm on a secret mission with my friend It's very dangerous I can tell I hope you get your mission accomplished And what's your name? Oh Uh Sean I I thought I told you Now you did No, I'm sorry You went through some shit with the guys How much you make? You ready? Hello, pups Oh Is that your doggy? So cool Yeah, he's been through a lot Like Most of us So we adopted him And he stinks Yeah, you stink and you like it, huh? He's not the only one Have you checked your hair? I think it just twitched You should keep your distance, dude Okay, let's go She looks really cool I think See? He knows I'm clean You're the nasty one Yeah You always go for those suburban boys Are you kidding? You want to talk about your scoreboard hotshot? Hey No worries Come on Let's bail It was nice meeting you, Sean And Daniel Stay out of trouble, kids Bye Hope we see you on the rail someday Yeah Io non ho preso una lira da sta conversazione Calm down, sweetie We're allowed to visit the Christmas market Our dog's not gonna eat you Look at him You better watch your mouth You punks are always causing trouble This is a nice town, okay? Jeez Someone needs to get a life Penso se avete capito La situazione No, no, no Te prego He's gonna call the cops On us, Finn Chill out We're leaving this shithole anyway You guys don't even have a Santa For Christ's sake Merry Christmas Il famoso spirito Di Natale, eh No, no Allora Fagli uno scherzo Dai Fagli uno scherzo Dai, rischiamo E ho capito però Vabbè, damo, Sam Abbiamo fatto Abbiamo fatto il misfatto In modo sta questo E dai Prima che ce pescano Ma dove sono finiti? Ah, eccoli, eh Direttamente fuori No, dammi se via Tre ore Che stiamo qua Non abbiamo fatto niente No, perché mi ero incartato Non capivo come Non c'avevo una lira Vabbè, ho dovuto, ragazzi Fare questa cosa brutta Rubare, ma Era l'unica opzione Avendo Tipo Che ne so Quattro dollari O quanti cavolo erano Quindi Sempre fatemi sapere sotto Nei commenti Che cosa ne pensate, eh Del gioco Di come, insomma Si sta sviluppando Se vi sta annoiando Se Cosa Cosa ne pensate Che teoria avete Sul potere di Daniel Sulla madre di Daniel E Sean Di Daniel e Sean Perché come vi ho detto Nell'episodio scorso C'è tutta una questione Particolare, no? Maggi Come si Come on, don't play me That cutie You were talking to By the market Oh Yeah That girl Abba She was cool She was cool She was cool You two quick Ah Got ya It's good for me To get out, too We've had a rough time Over the past couple years My wife, Emily Mamma mia Mamma mia Chris 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 is awesome And He's got a Wonderful imagination Thanks for saying that Chris Does have talent He's a storyteller I see that Just like Daniel When I look at You and Daniel How close you two are I realize I'm far From being up to the task Chris Deserves A real Family Anyway I shouldn't have Brought this up Okay Forget it No worries Didn't mean to make you feel bad We all have our ups and downs Right That's how life works Your grandparents Sure did have their share of downs, too But they're Always there for us For Chris They seem like Good people Ah, beh, sì Sì, sì They're so nice, but Yeah They have their problems, too Sorry for bringing that up It's okay I hope they don't stress out Because we haven't come back Yeah We should get you to home Don't keep them waiting Yeah Beh, anche, insomma, il papà di Chris C'ha i suoi C'ha i suoi problemi, eh Difficile essere, insomma, un papà Con un figlio Senza avere Un amore, insomma Ah, davvero? Ah, davvero How so? She drew comics You should see her drawings They're so cool Just like yours Thanks, dude Hey Uh What What is it? Sean I want to go check on the room No Upstairs I know it's moms Please Allora Non ti arrendere Si arrabbieranno tantissimo Daniel Daniel You heard Claire They will freak out If they know we want inside We won't tell them We'll be in total stealth mode They won't know anything If we make it quick It's just I really want to know what's inside What kind of stuff she had Chris has tons of things That belong to his mom And I have nothing Come on, Sean You don't even have to come with me If you don't want to Fuck it I'll come with you In effetti Potremmo dissipare Molti dubbi O almeno qualche Dubbio Su La mamma Dei ragazzi Ok Vabbè Lo facciamo Lo facciamo in questo episodio Dai Aspetta Nei panni sporchi Ok Trovata la chiave Ci abbiamo messo sette anni Per far sta cosa Non ho capito Perché non mi faceva usare Il potere di Daniel Però È stato meglio così Non c'è tanto Dei pensavo Di ciò Puntere il resto Il resto Pensavo L' tetra Allora Ragazzi facciamo così, siccome sarà avvenuto un episodio abbastanza lungo con tutti i tagli Noi ci lasciamo qui, la stanza della mamma dei ragazzi la visitiamo nel prossimo episodio Come al solito vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like, a commentare, a condividere Attivare la campanina dei notifichi, non perdervi gli altri video e supportare serie e canale Aiutateci col tempo di visualizzazione, guardate i canali che vi lascio sotto in descrizione Vi ricordo gli appuntamenti su Twitch martedì o giovedì live appunto sul canale Dove faremo, se ne stai zitto, faremo giochi Survivor in generale Insomma anche altri tipi di giochi, dateci un'occhiata se volete, passate per fare 4 chiacchiere E noi ci vediamo alla prossima, questi devono parlare sempre sopra Ciao a tutti Grazie 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 Grazie